Stiamo cercando di muovere i primi passi dopo il periodo di lockdown che ha fermato tutte le attività agonistiche. Con non poche difficoltà ci stiamo muovendo, però dobbiamo reagire per cercare di ritornare a una pseudonormalità e poi passare in futuro, mi auguro, il prima possibile a una normalità completa. Stiamo vedendo anche in altri sport casi di contagio che stanno riaumentando. Questa preoccupazione immagino ci sia sempre quotidianamente. Io anche come insegnante vivo nella preoccupazione di questi contagi, però forse in piscina è un ambiente un pochino più sicuro, perché clorato l'ambiente dovrebbe attutire un attimino gli effetti di questo virus. Stiamo a vedere, dobbiamo e possiamo farcela tutti insieme. Sono tanti i giovani atleti e le giovani atlete, chi è un po' più grande e chi è un po' più piccolo. Com'è comunque anche bello lavorare con i ragazzi? Questo dopo tanti anni è ancora bello, è ancora entusiasmante. La passione che ci anima insieme a Luisa, il presidente, ormai ci conosciamo da 40 anni. Sappiamo cosa vuol dire trattare con i giovani, valutando poi le situazioni positive e negative delle varie generazioni che abbiamo avuto sotto le nostre ali materne e paterne. Parte una nuova stagione quest'oggi, penso una delle stagioni un po' più complicate da ricominciare, anche se comunque l'attività era già ricominciata dopo il Covid. Come si sente da Presidente? Diciamo felice ma preoccupata, preoccupata perché la stagione scorsa è stata molto pesante e quindi ripartire ci dà la carica e la voglia per lavorare bene, però sempre con questa paura di dover sospendere da un momento all'altro. Speriamo che vada tutto bene e per la ripartenza abbiamo anche una bella novità. Il dorsista di Riccione Sabbioni che entrerà a far parte della nostra società, della Visauro Nuoto, con il progetto Road to Paris, to Paris 24, che è un progetto nato l'anno scorso e sostenuto dalla società UGC che ci ha sponsorizzato in questo grosso progetto che aiuta i ragazzi giovani a crescere in questo momento particolare. È un evento fantastico quello di oggi, diciamo che è un esordio bello con una torta di compleanno, con lo zaino come regalo della Visauro Nuoto. Sono arrivato a Pesaro, è un percorso fino al 2024, è un bel percorso che ci farà crescere tutti quanti, se la Visauro Nuoto, che si partirà e si riuscirà secondo me a raggiungere traguardi davvero importanti perché è pieno di giovani, è una squadra con tantissimi giovani e si sa come fare per cercare di andare in un livello alto. Quindi tutti i presupposti ci sono e noi siamo qua per mettersela tutta. A breve termine c'è il Tokyo 2021, Covid permettendo speriamo si facciano e ce la mettiamo tutta. Adesso bisogna qualificarsi ancora, a dicembre c'è la prima marzo, la seconda marzo, quindi ce la mettiamo tutta. Adesso abbiamo un ritiro a Livigno per 20 giorni in altura e a dicembre cerchiamo di raggiungere il tempo limite. Ci sono tutti i presupposti, il fisico c'è, risponde bene, con gli allenamenti stiamo faticando tanto, ce la stiamo mettendo tutta. C'è questa nuova news che mi stimola tanto perché comunque è un qualcosa di nuovo. Noi atleti abbiamo sempre bisogno di qualcosa che ci stimoli, quindi questa è una buona cosa. Anche in vista 2024 ho tante speranze. Speriamo di riuscire a venirci incontro con tutte le esigenze che ci sono per la squadra. Quindi io faccio un in bocca al lupo a tutti quanti anche della Visauro Pesaro e io ci sono per qualsiasi cosa. Grazie.